e bentornati tutti quanti in un nuovo video oggi ci ritroviamo nella locanda per vedere un nuovo report un nuovo report perché airson ha un problema airson ha un problema in particolare a legend ne ho già parlato un pochino sulla mia scalata legend io ho usato quel mazzo di che ora andremo a vedere che è un rogue molto molto problematico perché dico questo perché nel report andremo a capire quanto sta rompendo completamente il gioco se lo si sa usare e se praticamente si è un pochino bravi in su airson tranquillamente si riesce a scalare si riesce ad avere un win rate incredibile quel mazzo non ha rivali e quindi tendenzialmente va a vincere sempre e comunque infatti vediamo che rispetto allo scorso report questo report è stato preso dal 4 al 10 gennaio insomma pochi pochissimi giorni fa di si sta parlando proprio del meta più recente abbiamo visto che il dk per la prima volta in assoluto da quando è uscito non è più la classe la più giocata ma va in seconda posizione appunto superato dal dal rogue però qua ci troviamo a tutti i ranghi quindi partiamo dal dal rango più basso che quello di bronzo fino alla legend più andiamo in alto e più la situazione peggiora perché già vediamo che da diamante 1 diamante 5 rog prende completamente il predominio se prima era un 50 50 più o meno 18 per cento e di ciò 18.1 e 17.9 erano lì per giocarsi vediamo che già 21 e 16 diventa già di più a legend lo troviamo a 30 15 per poi arrivare in top mille che il rogue è al quasi 46 per cento di gioco capite che ovviamente avere un mazzo al 46 per cento e il secondo mazzo subito dietro al 20 cioè prende questi fanno una cosa come il 60 70 per cento dei match up per niente due volte su tre trovi questi due mazzi gli altri sono prende nemmeno presi in considerazione capite che c'è un grave un gravissimo problema di cui vediamo che un mazzo su quattro in ladder è per lo più miracle rogue t frog si utilizza soprattutto in top mille perché è divertente comunque abbastanza forte ma comunque è abbastanza insomma divertente quindi lo si continua a utilizzare però il vero problema è questo 26 virgola 20 per cento di miracle rogue a supportare questa cosa sono hanno pubblicato quelli di airson top deck la classifica delle carte più giocate e vediamo che oltre a rogue c'è un gravissimo problema che si chiama astal vediamo che la presenza di astalor nel meta attuale il legend è del 72,1 per cento vuol dire che più di sette mazze su dieci giocano astalor ed è una problematica grave tendenzialmente è vero astalor nuova carta molto bella simpatica tutto quanto ma capite che se si trova ovunque nel meta un ritocchino deve farlo ma se fosse solo astalor il problema saremmo anche a cavallo in quanto se poi vediamo la seconda terza quarta quarta quinta sesta e così via le carte sono tutte quante del rogue per trovare una carta al di fuori di quelle giocate dal rogue troviamo bran al 21,3 per cento ma comunque avete capito il rogue attualmente è l'unico padrone del del meta se questo va bene per gli amanti e rogue sicuramente per airson e la sua rigiocabilità anche perché miracle rogue non è che sia questa mazza super rigiocabile fa un po male fa un po male io spero insomma in qualche bilanciamento perché va bene stare così due tre settimane ma se ci dobbiamo stare due mesi ovviamente la gente poi dopo un po si stufa non è che sia un problema enorme non è che non si potrà mai uscire da questa situazione basta insomma nel fare e fare i giusti aggiustamenti e tranquillamente questi due mazzi non dico che devono scomparire perché è giusto che sia miracle rogue soprattutto che ti farò che rimangano super competitivi ma che comunque abbiano una percentuale di rigiocabilità attorno al 20 per cento massimo e niente insomma questo così vi faccio anche vedere comunque che tutte le cose sono d'accordo non solo airson top tech non solo vicio syndicate ma anche se andiamo su tempo store vediamo che gli unici tier 1 del meta sono miracle rogue indiscusso e poi si presta il quest demon hunter perché questo demon hunter viene giocato lo vediamo dopo e così magari vi do anche qualche suggerimento su come affrontare tutti questi miracle rogue e niente vediamo anche la frequenza dei classi dk che sta completamente scendendo invece rogue che ormai è in perenne risalita in quanto è davvero il mazzo più infermabile qui sono rimasti un pochino indietro già il rogue ha superato il dk le altre classi come vediamo sono tutte quante sotto il molto sotto il 15 per cento si attestano al massimo al 10 per cento davvero davvero malino insomma il resto della della ladder e niente per quanto riguarda i match up noi possiamo andare tranquillamente a vederli in dettaglio e vediamo che se prendiamo la top mille vediamo innanzitutto che ci sono davvero pochi match up tranne miracle rogue che praticamente affronta tutto i match up più brutti di miracle rogue è infatti quest demon hunter questo demon hunter è l'unico mazzo che tendenzialmente riesce a cavarsela con il rogue non è che se la cavi più che bene perché comunque siamo lì a un tasso di vittoria del 0,54 per cento quindi su cento partite 54 le andate a vincere 46 le andate a perdere è quasi quasi un cinquantone però tendenzialmente essendo lì lì per leggermente a favore capite che se trovate il 50 per cento di rogue in ladder allora tranquillamente andate a giocare queste demon hunter che nel lungo termine dovreste riuscire a scalare il problema di avere tutti questi rogue è che poi in meta è completamente invaso di questi rogue e allora si creano tutti i mirror match che ovviamente alla lunga stancano niente per quanto riguarda gli altri match up insomma ve li potete tranquillamente andare a vedere come sempre ve l'ho sempre spiegato come si fa voi vi scegliete il mazzo che volete andare magari a canterare trovate tanti big spell mage vedete che tranquillamente beast hunter spitter hunter vanno tranquillamente a batterlo lo stesso per pur pala lo stesso per evolve shove e lo stesso per rage war quindi potete scegliere uno di questi mazzi e così via insomma anche capire i match up più favorevoli e quelli meno favorevoli è sempre più che utile poi qui vi potete vedere tranquillamente i match up ovviamente più aumentati di grado più i match up sono precisi perché tendenzialmente magari a tutti i ranghi i giocatori sono un po' meno esperti quindi magari fanno qualche errore non conoscono bene le combo del mazzo non lo giocano magari al meglio delle possibilità quindi vi suggerirei di andare già su legend o almeno diamante 4 per capire un po' meglio i match up su come si settano comunque come abbiamo detto qui possiamo vedere che miracle rogue ormai è tranquillamente l'unico padrone del meta con essendo un tier 1 avendo una frequenza praticamente altissima rispetto al resto delle altre classi solo demon hunter può ritenersi un degno avversario appunto perché leggermente è sopra per quanto riguarda il punteggio vediamo miracle rogue 100% sia per frequenza sia per potenza è la scelta giusta quest demon hunter invece si attessa abbastanza bene per la potenza la frequenza un po' meno invece tif rogue è molto meno forte però è più giocato paralossalmente perché è anche più divertente il resto è tutto quanto verso lo zero e sappiamo che se le cose sono verso zero non vengono giocate per quanto riguarda le altre class le altre gli altri rank possiamo dire che la situazione è leggermente migliore già se guardiamo leggenda vediamo per lo più miracle rogue e splitter hunter sono gli unici due mazzi rilevanti però vediamo che almeno c'è già ancora qualcosina ancora giocabile che più o meno si assesta sul 70 di potenza e quindi che potrebbe vincere almeno qualcosina che sono pur palani beast hunter big spell mage quest demon hunter tif rogue invece è molto giocato ma purtroppo non è che abbia tutto questo grandison wear rate ovviamente viene giocato tanto tif rogue perché è molto molto divertente già da diamante 1 diamante 4 paralossalmente rogue viene giocato un po' peggio quindi magari non si riesce a sfruttare a pieno il potere di questo mazzo e quindi tendenzialmente sì il mazzo migliore per giocare da diamante 1 a diamante 5 attualmente è l'hunter con gli sputafulmini però anche qui vediamo che il resto dei mazzi è più o meno playable intorno al tra 70 e il 90 di power score che va più che bene da poter essere giocati per quanto riguarda la discussione io non mi voglio allungare perché comunque il riepilogo del meta ve l'ho fatto due settimane fa e più o meno il meta non è che sia cambiato tanto l'unica cosa che ha appunto cambiata è che il miracle rogue ha completamente preso tutto quello che poteva prendersi soprattutto in high legend se si scende un pochino più basso la situazione è migliore comunque stavo dicendo per quanto riguarda la discussione sulle classifiche di potenza come vi dicevo gli unici due mazzi sono miracle rogue e quest demon hunter che sono gli unici tier 1 del meta spirit hunter invece si va a considerare purtroppo solamente un tier 2 per quanto riguarda quest demon hunter la cosa che appunto permette la sua giocabilità è che leggermente va a vincere contro miracle rogue il problema è che è traballante come win rate positivo in quanto quelli di vicious syndicate hanno già individuato una line up che tendenzialmente non andrà più a perdere contro quest demon hunter il problema di non avere nemmeno un mazzo che possa minimamente contrastare ovviamente miracle rogue vuol dire che più andremo avanti col tempo più miracle rogue verrà giocato e diventeranno tutti mirror match speriamo che invece blizzard come ultimamente sta facendo intervenga intervenga bene in modo da poter riequilibrare tutta quanta la situazione come detto altrove sulla scala le cose sembrano molto migliori infatti hunter è miglior mazzo però il resto sono abbastanza giocabili una cosa che vi volevo evidenziare è che qua comunque segnalano che il contro il paladin pur avendo pochissime giochi quindi non essendo stato utilizzato molto dai player sta facendo molto bene perché riesce a gestirsi sia quest demon hunter sia il rogue e quindi tendenzialmente avendo due match up dei due tier 1 del meta attualmente riesce a resistere a questa cosa inoltre non ha dei match up oppressivi rispetto a tutte le altre classi e quindi potrebbe essere una buona scelta infatti io domani mi sa che vi porterò questo contro il paladin per capire se effettivamente riesce a vincere contro il rogue se effettivamente può essere una buona alternativa e se magari nel prossimo meta snapshot potremmo trovare effettivamente un contro il paladin che interromperà questo predominio di rogue ovviamente noi comunque speriamo in qualche nerf e in qualche aggiustamento da parte di blizzard nei prossimi giorni magari direttamente a martedì vi ricordo che martedì uscirà anche battleground con tutti quanti gli aggiornamenti io non sono un giocatore di bg purtroppo ci giochiavo ai tempi di quando c'era ancora il pass gratuito ora attualmente non ci gioco più quindi non lo tratterò però magari in quella patch lì visto che devono aggiornare il gioco ci metteranno qualcosa anche per noi giocatori di ladder e niente insomma questo era tutto fate sapere cosa ne pensate di questa predominanza di rogue se attualmente a voi invece il meta sta piacendo se invece vedete bisogno di nerf perché attualmente il meta non è buono e niente noi ci vediamo domani con a questo punto il contro il paladin fatevi sapere con un commento se va tutto quanto bene e niente ciao ciao ciao